Ciao a tutti, sono Gianluca Bocci e oggi vi parlo di una mirrorless PSC che deriva direttamente dall'ammiraglio della casa, cercando di mantenere la completezza dei controlli manuali pure in un corpo più piccolo e più leggero. Si chiama Fujifilm XT10. Andiamo a vederla da vicino. Eccoci qui. La prima cosa che si nota guardando questa XT10 è l'estetica. Sempre più riuscita una delle serie del successo della Fujifilm è questo effetto un po' retro, un po' vintage che ricorda le classiche fotocamere analogiche. Dal punto di vista però dell'ergonomia c'è qualche problema. Non sui controlli che sono ben fatti, ben distribuiti, quello per la compensazione, quello per lo scatto, quello per il tipo di avanzamento. C'è il controllo di apertura del flash interato che è molto carino. Peccato che il flash non può essere orientato verso l'alto, come invece è possibile su altri modelli di Fujifilm. Poi con le ottiche come questa che abbiamo qui montata c'è il controllo del diaframma direttamente sull'obiettivo in terzi di stop. Un po' morbidino onestamente, quindi è facile inadvertitamente anche sul tatto toccando l'obiettivo cambiare proprio il diaframma. Qualsolta se vogliamo andare completamente in automatico basta mettere la sia sull'obiettivo sia qui. Mi è molto piaciuta però questa posizione in più che troviamo qui sotto. Cioè se ho una fotocamera impostata, mettiamola così, così vediamo bene, tipo non lo so, f8, un 4 millesimo di secondo con ISO 800, devo fare uno scatto in emergenza, bisogna che sia tutto a posto, sposto la lavetta su auto. Cosa succede? La macchina in questo caso diventa completamente automatica. Quindi vedete, è scelto un altro tempo, un altro diaframma, un'altra sensibilità perché ho impostato su auto. Tolgo auto, torno come era prima. Quindi tutte le impostazioni completamente manuali. Quindi a questa levetta dovrebbe essere in situazione di emergenza. Quando voglio scattare con calma posso lavorare in manuale. Quando invece ho una situazione che voglio cogliere il lavoro, essendo sicuro che l'elettronica lo vuole a posto mio, basta spostarlo su auto. Cosa effettivamente molto carina. Però vi dicevo, i controlli sono tanti, tanti tasti personalizzabili, sono ben sette. Chi vedo soltanto un FN, in realtà posso impostare la funzione che ho premendo la rotellina anteriore, posso impostare la funzione del tasto registrazione di video, quindi se magari i video non mi interessano posso dargli un'altra funzione. Posso impostare tutti e quattro tasti freccia e il tasto FN, quindi di sette tasti personalizzabili, che non sono pochi. Il problema però è quello dell'impugnatura. Io che ho le mani belle grandi, mi trovo con due dita, sia l'anonare che il mignolo, che non hanno nessun posto da fare presa. Se utilizzo ottiche piccole, tipo il Pancake 27 mm, non è un problema. Ma già con questo bellissimo 16 mm sento il peso che cade in avanti. Se prendo un'ottica ancora più voluminosa, ve la faccio vedere, che è il 16-55-2-8, l'effetto è ancora più evidente. Vedete che l'obiettivo è più grande di tutta la fotocamera. Non solo, se io l'appoggio, in realtà che vedete, la fotocamera non resta in piano, perché la dimensione del barilotto è superiore alla dimensione della fotocamera. Quindi se dovessi fare un autoscatto appoggiandomi in piano, in realtà la macchina dipende da una parte. Dovrei utilizzare comunque un piccolo cavalletto o perlomeno anche soltanto il tappo dell'obiettivo mi aiuta a mettermi in piano. Quindi questa fotocamera, sì, è più piccola della Mirai, però se utilizzo ottiche pro come questa, qualche problema di impugnatura c'è. Ovviamente per lavorare bene basta utilizzare sempre due mani, quindi la mano sinistra che regge l'obiettivo e la destra che lavora sulla fotocamera. Altre cose che non mi hanno convinto proprio appieno è il display, che semplicemente è poco orientabile. Circa 45 gradi verso il basso e invece un po' di più verso l'alto. Però se voglio utilizzare per fare i selfie ovviamente non è possibile. Abbiamo comunque la solita app, quindi possiamo andare a lavorare wifi per controllare la fotocamera tramite smartphone. Altra cosa del display non è touchscreen. Comunque abbiamo il tasto Q, quindi il quick menu, che permette di accedere a tutte le opzioni. Una stranezza che vi ho già fatto notare è che non c'è la scelta della movimentazione simmetrica. Questa l'ho messa sul tasto Fn, quindi se voglio prendere e passare da lettura multi a quella spot e quella media, semplicemente lo faccio con questo tasto. Ultima cosa, il mirino è ottimo, splendido. L'unica cosa è che il sensore prossimità è un po' lento, non so se riuscite a vedere, ci mette circa un secondo per passare dall'uno all'altro. Quindi c'è la sensazione quando porto la fotocamera subito all'occhio, un attimo vedo nero. Niente di terribile che scegliendo i vari tipi di visualizzazione, posso lasciare sempre acceso il mirino, quindi se devo cogliere l'attimo è meglio utilizzare il mirino sempre acceso. Come al solito vi ho dato una rapida carrellata di questa fotocamera. Ci sono le immagini prove nell'articolo, se avete dubbi ci sono i commenti. Ciao a tutti e alla prossima!